Amici siamo di nuovo all'interno della scuola di volo Air Club & Fun qui del Render Club che li ringrazio insomma per l'accessione degli spazi e dei tempi eccetera 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 per parlare oggi di un argomento che devo dire a volte è un po' spinoso e trae un po' anche in inganno chi magari è già più navigato diciamo nel settore sia nautico, aeronautico eccetera eccetera parliamo di latitudini e longitudini perché sono importanti, a che cosa servono e che cosa sono in poche parole però prima di addentrarci nell'argomento delle latitudini e delle longitudini mi piace farvi due domandine veloci per capire se questo video fa il caso tuo o vostro insomma di te che guardi oppure se effettivamente è un argomento che puoi saltare perché conosci già a memoria le due domandine sono molto semplici, uno sai perché si utilizza il milionautico per quanto riguarda appunto le pianificazioni, la cartografia eccetera eccetera e la seconda domanda che è quella molto più tra bocchette è se ti parlo di latitudine, ok? la latitudine è quella che va da nord a sud, no? è un arco di meridiano o un arco di parallelo? beh la risposta è molto molto semplice, è un arco di meridiano tante volte questa domanda così semplice trae in inganno e il milionautico viene utilizzato perché c'è effettivamente una correlazione tra il milionautico e i gradi che adesso andiamo a spiegare un pochino delle latitudini appunto bene, allora da che cosa possiamo partire? partiamo subito disegnando la nostra terra perché la latitudine e la longitudine la possiamo trovare nei navigatori, nei GPS, ovunque per determinare la posizione di un punto nel mondo è importantissimo per quanto riguarda tutte le campagne di ricerca e soccorso quando abbiamo un'avaria, quando abbiamo un problema, quando purtroppo ci schiantiamo da qualche parte se noi conoscessimo esattamente il nostro punto, che è dettato appunto dall'incrocio di latitudine e longitudine siamo lì, non è che possiamo essere qui o là, siamo esattamente lì allora, latitudine e longitudine, partiamo dalla terra, ok? disegniamo la nostra terra, intanto qui volano, bravi io invece sono qua a disegnarvi un tondo che dovrebbe assomigliare la terra lo rinforzo un po' col blu perché questo penarello nero è scarico e qui vi faccio anche, facciamo un asse così che è l'asse di rotazione, diciamo, della terra, ok? bene se noi prendiamo la nostra terra e ipotizziamo che sia una sfera tonda, esattamente tonda una sfera, esattamente una sfera, che in realtà non è proprio una sfera però per convenzione, per comodità, eccetera, eccetera si determina che la terra è una sfera noi questo melone, questo cocomero, in poche parole lo andiamo a dividere lo andiamo a dividere in varie fette in maniera, diciamo, orizzontale qui adesso userò il verde, ok? e lo dividiamo anzi, facciamo le cose con calma lo dividiamo esattamente a metà questa divisione a metà la chiamiamo equatore lo sappiamo tutti l'equatore è una linea immaginaria che va a dividere esattamente a metà la nostra terra dividendo appunto due emisferi, no? un emisfero nord ok? qui siamo in emisfero nord e qui in emisfero sud e fino qui chiaro bene noi questo cocomero lo possiamo anche dividere chiaramente per così ok? da nord verso sud e già così si può notare adesso chiaramente è molto semplificativo però già così si può notare che se io ho diviso a metà da est da ovest a est o da est a ovest e da nord a sud già io vedo che qui alla fine le due rette si incrociano in un punto voi capite che con questo sistema bene ma noi riusciamo effettivamente a localizzare un punto sulla mappa bene ma allora se io faccio tanti equatori ok? a nord e a sud e faccio tante divisioni per così porca miseria ma il numero di punti che io ho a disposizione diventano tantissimi per essere localizzato è chiaro che sto facendo una semplificazione ma per capire perché serve latitudine e longitudine ok? cioè vi rendete conto che allora ho tantissimi punti ma se io ne faccio ancora di più e ancora di più ma se io ne faccio infiniti io potrò sempre determinare un punto all'interno della terra qualsiasi punto perché avrò infiniti infinite divisioni della terra quindi la classica domanda che si fa ma insomma ma quanti sono no? questi questi queste righe beh sono infinite però diciamo che quelle principali ok? hanno un un numero e adesso le vediamo le principali sono l'equatore come avete capito il meridiano di Greenwich ok? che sono diciamo le nostre due rette immaginarie chiamiamo le rette immaginarie comunque sono circonferenze in realtà immaginarie da considerare come punto zero allora partiamo di nuovo devo causare il blu da la terra abbiamo detto equatore ok? bene quindi questo diciamo che è il nostro zero abbiamo detto che c'è un emisfero nord abbiamo detto che c'è un emisfero sud questi si chiamano paralleli paralleli perché vedrete che tagliano vedete sono tutte paralleli uno con l'altro e tagliano la nostra circonferenza ok? tagliano il nostro il nostro cocomero a fette in orizzontale quanti sono? bene sono 90 si dice 0 gradi l'ultimo è 90 gradi sud e 0 90 gradi nord ok? 90 gradi nord e 90 gradi sud no scusa Marco fammi capire ma che gradi ma parla parla come mangi sono 90 o righe o sono perché 90 gradi bene allora noi adesso abbiamo fatto finta di prendere la nostra terra l'abbiamo divisa per così ok? se entriamo dentro cosa significa 90 gradi 90 gradi significa molto semplicemente ogni parallelo che noi andiamo a fare corrisponde a un angolo allora rifacciamo la nostra terra immaginiamoci al centro della terra ok? e qui c'è il taglio che pone l'equatore poi ci sono abbiamo detto tanti altri tagli no? allora non so se avete capito come come stiamo guardando l'immagine noi abbiamo la nostra sfera adesso non c'è niente di sferico abbiamo la nostra sfera stiamo puntando qui dentro e immaginiamo tutte le varie fette dal centro della terra dal centro della terra noi possiamo dire che se partiamo dal centro della terra equatore e andiamo all'ultimo parallelo vedi sono 90 gradi noi siamo al 45 parallelo vedi se vi siamo qua questo è 45 l'equatore è a 0 gradi avete capito come funziona? è un po' come un orologio facciamo finta che sia un orologio noi abbiamo il nostro equatore ok? man mano che ci spostiamo a nord o a sud vedete che si sviluppa un angolo o il concetto si poteva fare anche di qua questo qui magari è 80 gradi sud ok? bene questi sono i paralleli cioè il tagliare in maniera immaginaria la nostra terra in questa direzione in una direzione diciamo orizzontale poi abbiamo invece la longitudine o meglio i meridiani ok? ora io rifaccio la terra ecco i nostri meridiani che partono dal polo nord arrivano al polo sud e tagliano esattamente come quando si taglia il melone il melone lo tagliamo con dei meridiani ok? di solito perlomeno la classica fettina di melone no? non è un melone tagliato orizzontalmente è un melone tagliato verticalmente ok? questi sono quelli che noi chiamiamo meridiani anche qua ce ne sono quanti? allora stesso concetto di prima quando eravamo qua noi possiamo averne quindi partendo dal meridiano di Greenwich che è stato preso come riferimento cosa vuol dire Greenwich? è un meridiano che passa sopra Greenwich ok? partendo da qua noi possiamo avere come vedete tipo questo potrebbe essere 90 gradi questo potrebbe essere 70 gradi eccetera eccetera si va a 180 gradi quindi la latitudine o meglio latitudine che è così evidentemente sembrerebbe legata al discorso dei paralleli possiamo dire che va da 0 a 90 gradi nord e da 0 a 90 gradi sud la longitudine invece va da 0 a 180 gradi in questo caso est e da 0 a 180 gradi ovest ok? perché se facessimo finta che questo qua è il meridiano di Greenwich ok? se questo è il meridiano di Greenwich voi capite bene che ne abbiamo a est e ne abbiamo a ovest west ok? est e ovest quanti ce ne sono? ce ne sono appunto da 0 a 180 gradi ok? 180 gradi molto bene quindi abbiamo capito che la nostra terra che si ipotizza essere tonda quindi quindi con latitudine e longitudine noi possiamo trovare una posizione perché appunto a seconda di quanti gradi siamo di longitudine e quanti gradi di latitudine noi riusciamo a trovare un punto attenzione alla domanda di prima è un arco di meridiano o di parallelo è molto semplice perché? perché noi partiamo dall'equatore ok? che abbiamo detto essere il nostro punto 0 molto semplicemente andiamo verso nord ipotizziamo 45 gradi che più o meno l'Italia è cioè in Italia ce ne sono di più però 45 gradi colpisce anche l'Italia quindi andiamo a 45 gradi quindi da qui andiamo a cercare il 45esimo parallelo chiamiamolo così il 45 gradi ok? e lo troviamo qua e ci fermiamo avete visto che cosa ho disegnato? ho disegnato un arco di meridiano vi ricordate che i meridiani sono quelli che girano tutti così? vedi che ho disegnato un arco di meridiano e non un arco di parallelo se no un arco di parallelo l'avrei disegnato così ok? quindi la latitudine è un arco di meridiano e diciamo che qui siamo a latitudine 45 gradi oh non si va di grado in grado 45 gradi e poi i gradi è un sistema sessagesimale cioè cosa significa? che ha 60 primi e 60 secondi quindi magari siamo a 45 gradi e 32 primi ok? con il sistema sessagesimale cioè di 60 in 60 un po' come i minuti come l'orologio si riesce ad essere molto precisi e poi abbiamo la longitudine magari appunto diciamo che siamo longitudine andiamo verso destra quindi longitudine est ok? e quindi andiamo dal nostro meridiano di Greenwich che più o meno facciamo adesso lo disegniamo in verde facciamo finta che questo sia il meridiano di Greenwich e andiamo verso est facciamo longe stiamo cercando la longitudine 009 gradi est facciamo 30 primi anche qua via quindi andiamo dal punto del meridiano di Greenwich ci spostiamo a 9 gradi e 30 est e ci mettiamo qua bene signori cosa ho disegnato ho disegnato un arco di parallelo chiaro questa cosa un arco di parallelo unendo le due cose abbiamo capito che come latitudine eravamo qua come longitudine eravamo qua abbiamo quindi trovato il punto tu sei qua è un sistema veramente veramente molto molto utile per tutto quello che è posizionamento dove siamo dove non siamo vienimi a prendere qui vienimi a prendere là eccetera 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 mi raccomando occhio a quando si scrive perché poi fate come me che venite bocciato al carteggio nautico perché avete scritto longitudine 9 gradi e 35 primi aggiungete sempre 0 e 0 se siete in fase di esame perché la longitudine va da 0 a 180 gradi altrimenti poi vi sentite dire che se comunicate 9 gradi e 35 primi loro non sanno dove siete secondo me va bene comunque ci mettiamo a ridere ricordatevi che va da 0 a 180 quindi 009 gradi qua 45 gradi è 45 gradi ma se avessimo preso 9 gradi di latitudine cioè quindi saremmo praticamente molto vicini all'equatore era 09 gradi ok benissimo questa è una cosa molto interessante adesso però vi voglio portare sulla carta perché vi faccio vedere un po' anche come si riesce a determinare un punto sulla carta e anche il discorso appunto delle miglia perché si utilizzano le miglia che la cosa è molto interessante basti pensare che comunque il gradi allora attenzione questo è importante per determinare le distanze ok dobbiamo sempre pensare a una cosa allora la nostra terra essendo sferica ok ha un problema che l'equatore ha una circonferenza man mano che la terra sale è come se fosse è una sfera si chiude quindi l'equatore è grande così poi mentre vai su mentre vai su la circonferenza diventa sempre più piccola ok vedi 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 tu non mi puoi dire che questa circonferenza sia uguale a questa circonferenza è palesemente diversa discorso diverso visto che si ipotizza si prende per per definizione che la terra è sferica diversa è la questione dei meridiani tutti i meridiani sono di circonferenza si dice massima ok cioè questo meridiano ha la stessa circonferenza di quello che passa vicino qua o di quello che passa qua sono tutti lunghi uguali di circonferenza chi se ne frega no 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 non è proprio chi se ne frega perché quando dobbiamo determinare una distanza diventa fondamentale torniamo a guardare la nostra terra dal centro della terra abbiamo detto quando parlavamo di latitudini no che questi sono 45 gradi di latitudine nord perché stiamo andando a nord quindi 45 gradi nord bene questo angolo si traduce qui in fondo ad una distanza ti torna? cioè se invece qua ero 80 gradi e cazzo è la distanza più grande no quindi c'è una correlazione tra coordinata geografica e distanza ma dove noi riusciamo ad avere una misura che sia stabile con i meridiani perché sono sempre circonferenze tutte lungo uguali andiamo sulla carta che lo vediamo meglio allora siamo venuti nella cartina prendiamo il regallo porta sfiga con questo regallo è stato bocciato sempre tutti gli esami quindi questo porta molta fortuna allora siamo nella cartina siamo nella cartina che cosa vi volevo fare vedere allora sulla cartina quando facciamo pianificazione vabbè noi abbiamo il plotter poi magari ditemelo se vi piacerebbe vedere come si usa il plotter per fare voi dovete pensare che fino a qualche anno fa non esisteva il navigatore ok quindi bisognava per forza fare cartina plotter goniometri tutte queste cose qua non esisteva il gps ok allora come faceva neanche troppo tempo fa un avviatore o un appassionato vds a capire quanta benzina gli serviva per andare da un punto all'altro e capire quindi la distanza che gli serviva usava un banale righello vedete che ci vuole niente basta un righello oppure un compasso allora vieni qua facciamo un esempio banale vediamo se riusciamo a vedere due punti abbastanza semplici bene vediamo qua ponte dell'olivo e nibbiano tu prendi il tuo metro metro un righello diciamo che sono 5 centimetri giusto vedete 5 centimetri bene 5 centimetri 5 centimetri e dici che vuol dire 5 centimetri 5 centimetri ti puoi trovare una scala oppure noi sappiamo che un grado un grado di meridiano corrisponde a 60 miglia nautiche quindi il gioco viene comodo perché 60 miglia nautiche tutto il nostro sistema dei gradi è sessagesimale va di 60 in 60 un miglio è un decimo scusatemi è un sessantesimo di grado cioè è un primo due primi sono due miglia cinque primi sono cinque miglia cavolo facilissimo vieni guarda che cosa abbiamo qua abbiamo vedi queste righine queste sono i meridiani questi sono i meridiani poi ci sono anche vedete le latitudini e un punto di incrocio qua addirittura c'è scritto vedi latitudine nord 44 gradi longitudine est 9 gradi ma lasciamo perdere il punto di incrocio guarda guarda solo la longitudine vedi che ha tante tacchettine guarda qui questa qui è più grande poi c'è uno due tre quattro cinque che è un pelo più grande la cinque sei sette otto nove dieci questo qui sono dieci miglia ti rendi conto di quanto è bello abbiamo detto che da nibbiano a ponte dell'olio erano cinque centimetri oh perfetto prendiamo un punto zero qualsiasi qualsiasi ragazzi prendiamo questo punto qua tac prendiamo cinque lo vedete dov'è cinque è lì quindi cosa vuol dire uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici miglia e qualcosina tredici miglia e mezzo hai visto con un righello e la carta noi riusciamo grazie ai meridiani a stabilire la distanza per questo si usa il milionautico perché c'è correlazione con la carta il milionautico è comodo perché un grado corrisponde a 60 miglia visto che il sistema dei gradi è sessagesimale noi basta che contiamo le righettine della longitudine e sappiamo la distanza se non ci credete prendete un google earth adesso io qui non sto a fare la prova ma se volete cercate appunto certo che bisognerebbe trovare questi punti sulla mappa cerchiamo non so prendiamo due paesi perché i paesi li potete anche dopo vedere cerchiamo cerchiamo guarda io qua c'è il dritto davanti agli occhi posso avere varzi varzi e romagnesa questo è scritto romagnesa vabbè la definizione essendo così grande in questa mappa è difficile dai varzi e romagnesa fate la prova a casa ragazzi guardiamo dice due centimetri ventidue due centimetri sì dai ventidue millimetri ventidue da varzi a romagnasa abbiamo detto ventidue no ventidue eccolo lì quindi uno due tre quattro cinque sei sono sei miglia fate le vostre prove sei miglia da varzi a romagnesa ma che paese è romagnesa sono abbiamo detto non mi ricordo più cosa ho detto sei miglia può essere avevo detto ventidue mi sono già dimenticato uno due tre quattro cinque sei miglia sei miglia chiaramente fate se avete in chilometri sei per 1,88 e scoprirete quanti chilometri sono però avete capito com'è bello un righello mi raccomando meridiani 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 perché i paralleli non sono tutti lunghi uguali l'unico parallelo che si potrebbe utilizzare per fare questo gioco visto che si ipotizza una terra completamente sferica è quello dell'equatore ma per non sbagliarsi si usano i meridiani ok che i meridiani ricordiamo servono per determinare le latitudini ok latitudine è un arco di meridiano la longitudine è un arco di parallelo bene ragazzi io direi che con questo pippone gigantesco è tutto spero che vi sia anche piaciuto scoprire perché si utilizza il milionautico nei viaggi possiamo dire quindi sia in mare sia in aria e aver capito un pochino meglio il discorso latitudine e longitudine è un argomento in cui non sono fortissimissimo nemmeno io spero di averlo spiegato nella maniera più semplice possibile in maniera che insomma ecco l'abbiate potuto capire almeno quanto l'ho capito io e poi insomma noi vi diamo chiaramente appuntamento ad un prossimo video qui su pilotando vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video anche perché qui fuori mi iniziano a fare pressioni che devo liberare la stanza quindi ragazzi al prossimo video e ciao a tutti